Nasce ad Avellino lo sportello dedicato alla crisi di impresa. L'iniziativa è promossa dalla Confesercenti Imprenditori Irpini. Si tratta di uno spazio innovativo dedicato alle imprese che vivono particolari condizioni di difficoltà economiche e che, avvalendosi delle nuove forme sulla transazione fiscale ed il sovraindebitamento, possono uscire dallo stato di crisi per riprendere a produrre e creare posti di lavoro. Lo sportello, fortemente voluto dall'associazione, nasce per essere al fianco delle imprese che nell'ultimo anno hanno registrato bruschi cali di fatturato a causa delle misure di lockdown. Noi stiamo rilevando soprattutto sulle province piccole una grande criticità da questo punto di vista, però chiaramente attraverso le associazioni di categoria, attraverso le associazioni professionali, dobbiamo fare di tutto affinché queste imprese possano avere l'opportunità di continuare le loro attività e quindi anche riprendere i loro regimi naturali. Il portello della crisi di impresa, che oggi in qualche modo viene portato a conoscenza degli imprenditori, servirà proprio a questo, vale a dire, proverà ad affiancare le imprese in questo processo di ripresa. Gli strumenti legislativi oggi sono tanti, però chiaramente è necessario che l'imprenditore si affacci al proprio professionista di riferimento o alle associazioni, come nel caso di questa mattina, affinché attraverso questi strumenti agevolativi si possa, come dire, riprendere e ristrutturare soprattutto le esposizioni ai debitori.